sapevamo che partita andavamo ad affrontare contro una squadra fisica contro una squadra che gioca ad un basso ritmo doveva cercare di alzarlo siamo riusciti in gran parte della partita abbiamo avuto difficoltà nel terzo quarto dove però alla fine sono stati coesi abbiamo difeso e l'ultimo quarto queste sono partite vita o morte quindi le piccole cose sono quelle che ci hanno fatto vincere la partita siamo pronti adesso già a giocare la partita di giovedì contro sansevero ce ne mancano cinque daremo sempre 100 per cento ogni partita